Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo finalmente un pochettino di questa signorina nuova Larkon, Eletro, Raiden Shogun, Bal e mille altri nomi Alcuni non ve li dico perché magari alcuni non hanno fatto la storia Comunque altri nomi, tanti altri nomi di cui magari discuteremo anche nuovamente nelle live L'abbiamo già fatto ma è stato fighissimo Vi ricordo di seguirmi mi raccomando su Twitch Perché stiamo facendo delle live molto interessanti su Genshin E anche su Discord ho aperto il canale, il server finalmente Quindi potete gioinare attraverso la descrizione, trovate il link Altrimenti nelle live lo sparmiamo spesso quindi comunque potete gioinare Mi raccomando seguitemi perché stiamo facendo un percorso interessante Si sta evolvendo, la gente è sempre di più, sono davvero molto 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 contento E vi ringrazio come sempre Allora Bal, personaggio abbastanza atteso dal mondo intero Però alla fine della fiera per quanto sia un ottimo Vars DPS eccetera Credo che nonostante sia un Arcon risulterà meno incisivo a livello di meta Rispetto a quello che fa un John Lee ad esempio Per ovvi motivi, ovvi regioni È un personaggio che ha un potenziale impressionante a livello di DPS Anche senza investire chissà quale risorse nell'equipaggiamento Riesce a dare delle soddisfacenti performance a livello di danni È molto molto forte, va usata a modo eccetera Però ci sono alcuni limiti, alcune cose che andremo a vedere all'interno del personaggio Intanto andiamo a vedere quali sono i talenti di questo personaggio Perché è una cosa ovviamente importante Allora, abbiamo le attacchi base Vi sconsiglio al momento di portarli su Perché non è la cosa in cui performa davvero bene Diciamo che lei ha quel momento in cui attraverso il team dovete caricare la sua burst E con la burst poi scatenate l'inferno La sua elemental skill è un elemental skill di supporto Che però aiuta tantissimo la squadra E non è davvero niente male È molto molto forte Ha una durata eterna Sono 25 secondi di durata Avete un cerchio Non so come definirlo Ve lo faccio vedere poi a schermo Avete questa cosa qua, vedete? Questa meraviglia attorno a voi Questa specie di sfera E con le burst degli altri personaggi Cosa succede? Che questa sfera, a seconda del costo della burst dei personaggi Vedete, va a caricarsi questo cerchio Ok? In modo più semplice per spiegarlo credo che sia questo Attraverso questa roba qua Voi vedete, avete i vari punti che si accendono Una volta che il cerchio è completo Potete scaricare la burst Potete farlo anche prima Ma il potere della burst E il potenziale dei danni che arrivate ad avere Si basa su quanto sia carico questo cerchio Che funziona appunto con le burst degli altri Come vedete si è spento nel tanto Il che significa che sono passati quei 20-25 secondi Potete riaccenderlo In questo momento è attivo E lei prende schiaffi da scosse Maledetta In questo momento Ogni volta che colpite un nemico Ogni 0.9 secondi Un colpo elettro Un fendente elettro ad area Andrà a colpire il nemico Insomma incatenando l'attacco al suo Ed è una cosa veramente molto molto forte Qual è il problema di questo Di questa abilità Ora vi faccio vedere Con uno scudo all'interno del gioco Allora Noi abbiamo Vedete mi cuore un attimo Perché così Noi abbiamo come vedete Un maghetto Maledetto Ora teoricamente Dovrò anche spawnare cose Ma vediamo Ti accorgi di me per favore Allora Qua c'è un maghettino Come vedete Quando io colpisco Uno scudo Nonostante abbia l'abilità attiva Questa cosa non funziona Il che significa che lei Praticamente perde la sua elemental skill Se ci sono degli scudi Ovviamente gli scudi Non sono solo quelli di Maghetti Ma ad esempio Sono quelli degli Abyss Herald Nella skill viene proprio descritto Questo effetto Vi faccio vedere Eye of the Stormy Judgment Vedete Quando un personaggio Con questo buff addosso Attacca e causa danno Al nemico L'occhio rilascia Un attacco coordinato Facendo danno E bla 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 Eccetera Lo sappiamo Ok Cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire questa cosa? Che se io ho il mio occhietto E ho una Barbara Che quindi hitta Hydro su un Hydro L'effetto Non viene applicato Ok? Questa cosa è importante ragazzi Non è da sottovalutare Perché abbiamo gli scudi E qualunque cosa Che non faccia danno di base Non fa proccare L'abilità di Raiden Eeeh Oddio Nel senso Siamo sicuri che sia una cosa così bella Al di là di questo Il personaggio è semplicemente Fortissimo Quindi in Barast È molto forte In tutte le altre situazioni È chiaramente utilizzabilissimo E anzi Aumenta il danno parecchio Dei personaggi Perché Un attacco coordinato Ogni 0.9 secondi È una roba chiaramente Molto molto forte Non è un Un attacco che Diciamo Ha la potenza Di un attacco di odds Diciamo Non ha la potenza Di una fiscia In termini di danno In supporto Però Dura molto molto di più E colpisce ad area Mentre odds Fa un danno sì Più elevato Mi pare ogni secondo Non ricordo male Ogni secondo va a colpire Ogni secondo è qualcosina E però single target Ovviamente Tolte il discorso Reazioni Che può far proccare Quindi magari Quel danno fa anche Reazione Blah 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 Quelle sono altri discorsi Però di base È un attacco single target Mentre lei fa un attacco ad area Quindi ci sta Ci sta Che in una situazione come quella Lei vada semplicemente A colpire Quindi a fare meno danno Perché colpisce ad area Però rimane un limite Secondo me Abbastanza importante C'è poi tutto il discorso Delle Delle armi E di come equipaggiare Al meglio Questo personaggio Allora Bal è un personaggio Che richiede Un'elevatissima Energy Recharge Per poter funzionare A modo Vi spiego I motivi principali Il primo è sicuramente Che la sua Elemental Burst Funziona In Diciamo In catena Alle altre Per poter funzionare Come si deve E soprattutto Ha un costo Non indifferente Che sono di 90 Punti Energy Se non erro È la più alta del gioco Non ne ricordo altre da 90 Mi pare che il cap fosse 80 Ma magari mi confondo Al massimo Ditemelo nei commenti Perché non mi viene in mente In ogni caso È una energy cost Molto molto elevata Però 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 Ci viene in aiuto Il tipo Di equipaggiamento Che dobbiamo andare a utilizzare Ovvero Il emblem Che è assolutamente Il best in slot Per quanto la riguarda Si può anche optare Per Un tipo di equipaggiamento Che possa essere magari Con due di questi E due thundering O Si possono fare altre cose Però Di base Esattamente come per un caso Il vulviride Sente comunque L'opzione migliore Per lei l'opzione migliore Direi che è l'emblem Assolutamente Per come funziona Proprio l'emblem Perché In base all'energy recharge L'emblem Vi garantisce un bonus Al danno della burst Che va proprio A stretto legame Con quello che sono I suoi talenti Ok Noi abbiamo Come vedete Ogni punto percentuale Che supera Il 100% Di energy recharge Le dà Dei buff Che sono Uno 0.6 Di energy restoration Per il musu Isshin Cioè Per la sua Elemental Burst E ovviamente Va a sommarsi Anche Il Electro damage bonus Quindi avete Ogni Ogni punto percentuale In più Rispetto a quello Che avete Oltre il 100% Quindi alla base Diciamo del personaggio Avete anche Uno 0.4 Di damage bonus Sull'elettro Questo vi porta A fare Dei tipi di ragionamenti Attraverso gli artefatti Che possono funzionare In maniera un po' diversa Rispetto al solito In primis Ovviamente L'energy recharge È una cosa Che deve avere Abbastanza elevata Vi suggerisco Di andare Sopra il 200% Diciamo che Tra il 200 E il 230% 240% Credo che sia La situazione ottimale Anche per bilanciare Al meglio Le altre caratteristiche Allo momento Io purtroppo Non ho Dei grandissimi artefatti Tolto il fiore Che è molto molto bello Diciamo che gli altri Sono tra l'accettabile E il così così Questo ad esempio Secondo me È abbastanza orribile L'energy recharge È buona Ma è abbastanza orribile Qua ho di nuovo Un attacco Ma è terrificante Devo chiaramente Farmare ancora tantissimo Per qua E qua ho messo un filler Che vabbè Era favoloso Quindi l'ho messo filler Per avere qualcosina Però di base Come vedete Nonostante gli sforzi Raggiungo un 45 148 Non è così male Ma chiaramente Siamo lontano Dall'essere qualcosa Di ottimale Tutto questo Considerando che l'arma È un'arma con Energy recharge Quindi non avete l'aiuto Se avete dell'attacco Dall'arma O del crit rate Dall'arma Come potrebbe essere Una primordial O una oma Magari per aiutarla Eccetera eccetera Chiaramente Se non avete La engulfing lightning Potete optare Anche per altre armi Ad esempio C'è la catch Che è fortissima In questo momento Avete la possibilità Attraverso il gioco Della pesca Di ottenerla E refinarla Fino al 05 E vi dà un ottimo Bonus Sia ai danni Della burst Sia al crit rate Della burst Sia in termini Di energy recharge Quindi un'ottima arma Altrimenti avete La skyward Come si chiama Spine Avete Insomma le lance Con energy recharge Di base O qualcosa Con l'attacco E potete bilanciare L'arma con Attacco percentuale Per poi mettere Magari Nella clessidra Un energy recharge Rispetto a Un attacco percentuale In modo da bilanciare La situazione Tutto dipende Chiaramente dall'arma Che equipaggiate Ma vi consiglio Se non avete Le armi 5 stelle Di utilizzare La catch E se avete Refine 5 Della catch Attenzione Perché potrebbe Essere performante Davvero in modo Molto simile Anche a una skyward Spine Ad esempio Quindi fate I vostri calcoli Se le avete Entrambi Magari provatele Ma meno male Verrete Poi meno Lo stesso risultato Ovviamente Ripeto La sua arma È assolutamente Questa Quindi se avete Avuto la fortuna Di beccarla Tenetela Perché è chiaramente La sua Ovviamente E potrebbe Anche tornare utile Per altri personaggi Poi ne parleremo Magari in futuro Diciamo che Durante la burst Generalmente Quando la attivate E poi la utilizzate Nel momento in cui Cominciate a fare Qualche colpo Poi l'energia Se l'avete Piena E siete a posto Nonostante il suo costo È elevatissimo Il problema è la rotation Perché per performare Meglio dovete comunque Passare attraverso Altri personaggi Prima di lei Altrimenti scaricare La sua burst Funziona lo stesso Ma non è la situazione Magari ottimale Per scatenare Il suo dps Se dovete andare A un discorso Di costellazione Quindi se avete la possibilità Perché avete messo da parte Migliore di primogems Per questa signora Elegantissima Ovviamente Vi consiglio di andare Verso la costellazione 2 Le altre costellazioni Sono comunque molto forti Questa del bonus All'attacco E veramente molto forte La costellazione 6 È parecchio buona Perché velocizza Tutto il processo Di carica e scarica Delle altre skill Eccetera Ma di base Secondo me Potrebbe essere anche Passabile Ma stiamo parlando In 5 stelle Quindi un investimento Atroce Lasciate perdere Queste cose qua Secondo me A vero che non siate Whale chiaramente Ma ci non carebbe Puntate al massimo Alla C2 Perché? Perché la C1 Vi permette di accelerare Il riempimento Del cerchio attorno Che serve appunto Una volta caricato Per scaricare la burst Mentre la C2 Semplicemente Vi potenzia In modo incredibile Il momento in cui siete in burst Dal danno iniziale A tutti i colpi che fate dopo Perché? Perché la C2 Ignora il 60% Della difesa nemica Quando siete Nello stato di burst Quindi colpo iniziale E poi tutti i colpi a seguire Caricati e non Quindi se avevate intenzione Di puntare a una costellazione Per Baal Puntate assolutamente Alla costellazione 2 Altrimenti Potreste farmarvi anche a 0 Tornando al discorso Degli artefatti C'è una cosa importante Dicevo da sapere Ovvero il fatto Che bisogna bilanciare Le sue statistiche In modo che riesca A performare molto bene Al di là del fatto Di cercare Ovviamente gli artefatti buoni Che diano anche Un buon crit rate E un crit damage Nonostante l'investimento In energy recharge Come dicevo prima C'è bisogno di un occhio In più di riguardo Per quanto riguarda L'attacco Perché avendo Tutta questa ricerca Dell'energy recharge Eccetera Si può perdere Tantissimo in attacco E vi ritrovereste Magari con una Baal Che Senza l'arma Magari adatta Sacrifica troppo attacco Per avere L'energy recharge In questo modo Andrete secondo me A perderci A livello di danno Nonostante non sembri La cosa che vi consiglio Di fare in questo caso È di cercare una coppa Attacco Perché? Perché con la coppa Attacco avete Ribilanciato la questione L'energy recharge Che avete dalla Passiva E l'electro damage bonus Che arriva dopo L'energy recharge Riescono ad essere Sufficientemente alti Da garantire L'attacco percentuale Come una caratteristica In base al bilanciamento Del vostro personaggio Superiore Rispetto a quello Che guadagnereste Con una coppa Elettro Per proprio un discorso Di base di partenza Del calcolo dei danni Qui la stessa cosa Se avete già tanta Energy recharge Non vi serve Aggiungerne ancora Non vi serve Aggiungerne ancora Se avete la possibilità Di avere una Engulfing O l'avete trovata Eccetera Ricordatevi che avete Anche 30% Di energy recharge In più Sul personaggio Una volta Che usate la burst Il che significa Che alla vostra Energy recharge base Va sommata quella In questo caso Io arriverei Quasi a 250 E oltremodo Sufficiente Una volta che usate La burst Capite? Quindi cercate sempre Di bilanciare Al meglio Le vostre caratteristiche In questo momento La mia balla Ha 2400 d'attacco Però soffre In rate damage Purtroppo Devo continuare a farmare Finchè non li trovo Davvero messi bene Devo continuare a farmare Però ho fatto la scelta Del mettere il doppio attacco Come vedete Ho messo l'attacco qui E ho messo l'attacco qui Al posto dell'Elettro Nonostante Con un Elettro Anche se era offset Avrei guadagnato sicuramente In caratteristiche E in statistiche Per forza Perché 10-15 È molto molto buono Però qui Poi avrei optato Per altre cose Non ero messo bene uguale Insomma Poi dipende dal vostro account Chiaramente Piccola cosa da sapere Anche sulla burst Mi raccomando Dura veramente poco Sono pochissimi secondi Di durata della burst Avete una serie di attacchi Da poter fare L'unica cosa Che non dovete fare È switchare Durante La burst Usatela fino alla fine A meno che non siate Veramente in una situazione Di crisi Allora ok Perché lei non torna Sul suo effetto Se switchate Perde l'effetto Dalla burst Esattamente come un razor Quindi attenzione Sono 7 secondi Godeteveli E va bene così Mi raccomando Non fate l'errore Di pensare che Visto che sono attacchi normali Quelli che ho fatto in burst Allora dovete potenziare anche questi Non è assolutamente necessario Se poi volete utilizzarla Come main DPS Perché vi piace un sacco Nulla da dire Sono comunque Delle buone performance A livello di attacchi base Messe in combo Con la sua elemental skill Che comunque Danno una mano E si può giocare Insieme agli altri membri del party Come sempre Utilizzate un John Lee Per avere il debuff Utilizzate Insomma comp diverse Per riuscire a farla performare Anche in quel modo Piccola parentesi Un po' Un po' poco ironica Bennett C6 Con lei è perfetto Perché quando non è in burst Prende il pyro E quindi diventa Molto 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 forte Con le sue mosse Perché diventa più forte Rispetto a una Una cosa normale Specialmente non ricopaggiando La coppa elettro E quando è in burst Sovrascrive quella cosa Quindi non prende l'effetto Della C6 di Bennett Scusate E detto questo Non siamo a livelli Degli attacchi di uno Xiao Quindi attenzione Agli attacchi normali Perché non saranno Di quella caratura Però comunque Vabbè dai È buona Diciamo che in combo con tutto Può essere buona Per quanto mi riguarda Per il mio tipo di Di playstyle Investirò su queste due E più avanti Se dovessero avanzare Risorse in un gioco Che non ne dà mai Magari porterò Su anche qualcos'altro Le porto almeno a 8 Queste due skill La prossima settimana E poi vediamo Cosa fare In che team Può andare a funzionare Questo personaggio? Praticamente In tutti i team Perché? Perché è un personaggio Di supporto Che entra a fare burst E garantisce Un buon supporto Appunto ai personaggi Perché? Perché esattamente Come una Fischel O una Beidou Off field Riescono a darti Un danno abbondante Che riesce a performare Molto bene Ci sono delle cose Dove funziona Secondo me un pochino meglio Specialmente contro Alcuni tipi di nemici Ad esempio Se avete un 20 Il tornado di 20 Quando la smette di parlare È molto molto forte Con la sua elementa skill Perché raccoglie Completamente i nemici E la sua skill Che va a colpire Ogni 0.9 secondi Diventa impressionante Proprio perché Colpirà ad aria A tutti i nemici In quel modo Ed è una cosa fighissima È davvero molto bella Molto molto forte E anche bella da vedere Perché vedete Sto fascio di luce Che continua ad arrivare Di continuo E tutti i mostri Che vengono dilaniati E intanto andate a colpire Con tutti gli altri Tra parentesi La sua burst Il taglionetto Della sua burst Va a colpire Esattamente come fosse Un child Quindi andrete a colpire Tutte le persone Anche se sollevate Da terre Mostri eccetera Ci sono ovviamente Le comp Come caso A caso Specialmente In questo caso Da support Se doveste usare Ball come main Del vostro team Andare a potenziare L'elettro in quel modo Diventa molto molto forte E andrete a colpire A dare Anche con l'effetto Magari mentre state puntando Altri personaggi E altri mostri Da colpire Quindi i buffer In generale funzionano Molto bene Vi consiglio uno scudo Che può essere Può essere una Diona Può essere un John Lee Può essere quello che vi pare Insomma Perché Specialmente Nel momento in cui Magari lo utilizzate Anche Con gli attacchi base Eccetera Avreste Sì il superconduct Con una Diona Sia uno scudo Per Insomma Proteggevi dai colpi E quindi spammare Le vostre mosse Senza preoccuparvi di niente Sia un aumento Di danni Attraverso la riduzione Delle difese Di John Lee Ad esempio Quindi uno scudo Potrebbe essere Una buona cosa Se non avete un Arcon Ripeto Potete fare affidamento A qualunque altro Membro del team Idem Se non avete Kasua Perché non avete pullato Perché state aspettando Appunto Ball Ayaka Yuemiya Eccetera 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 Oltre ad aver fatto Molto male Avete la possibilità Di mettere chiaramente Un healer Che fa anche La riduzione Di difese Che fa anche Da battery Quindi ci sono Mille altre cose Da fare Di base Vi consiglio però Per come funziona Il personaggio Di utilizzarla Molto di più Da sub DPS Che non da DPS main Perché È semplicemente Rolo che le si adisce di più Quando puoi fare gli attacchi Normali Non è così performante Vi ripeto Andreste a perderci un pochino Rispetto a un main DPS Qualunque Funziona secondo me Molto molto bene Anche con un albedo Perché Perché albedo Ha una meccanica Simile alla sua Ogni due secondi Fa infatti Detonare Quell'esplosione Con il fiorellino Bellissimo Che fa danni Di elemento geo In più Albedo aumenta L'elemento master Quindi le reazioni Potrebbero anche essere Più forti In più Avete quindi Due Danni o field Che sul terreno Vi danno una bella mano Quindi se avete Un main DPS Che non è ancora Così performante Perché state cercando Il suo set Ancora non avete investito Abbastanza Ma lo volete usare Perché vi diverte Con questi due personaggi In squadra Quello nelle veste Potete avere Un supporto in danni Veramente Veramente incredibile Ovviamente Essendo Raiden Un personaggio elettro Una delle Reazioni che funzionano Meglio in questo periodo Sono sicuramente Quelle Hydro related Cioè L'electro charge In questo caso Questo non smette Torna ovviamente A essere di nuovo Incredibile Il suo supporto Prima perché Di nuovo Abbiamo uno scudo Che vi fa recuperare vita E vi da Resistenza Eccetera eccetera In più abbiamo L'applicazione Hydro Molto molto forte E quindi lei Con l'hydro diventa Wow In quel momento diventa Wow Specialmente se magari L'abbinate a una burst Quindi utilizzate Prima la sua Dopo la sua Fate il dannone Poi cominciate a fare Oltre le scariche Di danni che fa lei Anche Anche l'elettro charge Insieme Ed è una roba incredibile Un Bennett Non è mai La scelta sbagliata Compresa la costellazione 6 Mie cari detrattori Se non avete 20 E volete usare Una sacros O una gine Come vi dicevo Potete farlo tranquillamente Se non avete Uno scudo Come dicevo Potete usare Tranquillamente lei Quindi utilizzare Anche il superconduct Che mai male è Potreste utilizzare Sara Sara con lei Specialmente a costellazione alta Quindi mi riferisco Alla C6 È veramente Veramente Forte Vi spiego il perché Sara Utilizzando La combo Delle sue skill Aumenta L'attacco percentuale Dei personaggi In modo diciamo Simile A come fa Bennett È una meccanica Leggermente più Più rigida Secondo me Perché dovete Sparare in un certo punto Andare a pescare L'esplosione Per prendere il danno Eccetera Ma poi viene agevolata Attaverso le costellazioni Al di là di questo però Con la costellazione 6 Quindi se avete Pollato tanto Da raggiungere la C2 Di balle Quindi chiaramente Avete anche una C6 Sara Difficilmente non esce Dopo C2 Di balle Che non riesco a tirare Un pool Maledetti voi Ne ho visti tanti Maledetti di doppie balle In una pool Sola da 10 Vi odio Però Avete questa cosa qua Il crit damage Degli attacchi elettro Quindi non solo Di personaggi elettro Ma anche degli attacchi elettro Quindi anche Per esempio Un caso Potrebbe guadagnarsi Da questo Qualunque personaggio Faccia un infusione Un 20 Eccetera Viene aumentato O meglio Il suo crit damage Viene aumentato Del 60% Questa è una roba Importantissima Nel senso che Voi avete la possibilità Di scatenare Una furia sul terreno Perché? Perché oltre a tutto questo Andreste a ribilanciare Completamente Le vostre statistiche Perché Immaginate di avere Quel momento In cui avete L'attacco aumentato E in più Avete 60% Di crit damage In un personaggio Che magari Ha solo 120 130 Di crit damage 140 Perché non siete riusciti A fare più di artefatti E avete però Un buon crit rate Significa avere Di nuovo 200 di crit damage Senza Senza nessuno Sforzo A livello degli artefatti E una combo Chiaramente Una coppia Che funziona molto Molto bene insieme Avete poi Abbastanza elettro Che vi da una mano Per l'energia Che per carità Non è ancora Una cosa eccellente Bellissima però Di base Perché no Insomma Aiuta abbastanza E direi che siamo Arrivati al fine Ragazzi Per questo video Direi che è tutto Vi ricordo nuovamente Di seguirmi sui social Mi raccomando Trovate tutto in descrizione Siamo su twitch Praticamente tutti i giorni Vi faccio sapere sempre Su discord Quindi seguitemi Su entrambi I server E vi ringrazio ancora Per il video Spero vi sia stato utile In qualche modo E nel caso Lasciatemi un commento Lasciate un like O un dislike Se non vi è piaciuto E ditemi la vostra Nei commenti Per Baal Direi che Potrebbe essere tutto E ci vediamo Nel prossimo video L'idea di darela Con un uccello in mano E ci vediamo